Con un sitino nella stazione fiorentina di Santa Maria Novella riparte la campagna dell'Egambiente per la mobilità sostenibile, mentre a Roma veniva presentato il dossier messo a punto dall'Associazione sui servizi ferroviari regionali. Il rapporto evidenzia la crescita dell'alta velocità a discapito delle tratte dei pendolari, caratterizzati a livello nazionale da tagli e viaggiatori in calo. Fa eccezione la Toscana che insieme a Lombardia ed Emilia Romagna è quella che investa di più nel rinnovamento di treni e servizi per le linee locali. 50 milioni di euro soltanto nel 2014, 376 negli ultimi dieci anni. Un dato che insieme alla riapertura di linee storiche come la Cecina Salina o la Porrettana e il progetto del raddoppio della Pistoia Lucca ha portato l'Egambiente a consegnare uno speciale riconoscimento alla regione. Una regione dove stiamo facendo uno sforzo importante per avere una forte integrazione tra il ferro, la gomma e la bicicletta. Ecco questo premio ci dice che siamo sulla strada giusta. Ma c'è ancora molto da fare, i pendolari chiedono corse in più, maggiore puntualità tra le nuove e l'ampiamento dei parcheggi scambiatori, lo sblocco definitivo dei lavori per le infrastrutture dell'alta velocità fiorentina, certezze sui percorsi di Intercity e Frecciabianca sulla costa e soprattutto maggiori investimenti visto che alla fine anche la regione toscana riserva al servizio ferroviario lo 0,51 per cento del suo bilancio. Io credo che si debba pretendere di più e pendolaria è una finestra di attenzione che serve a segnalare esattamente questo. Pretendere un po' di più, non si offendano i politici, pungolarli, stimolarli è il nostro dovere di un'associazione seria, autonoma e libera da condizionamenti.